Juventus News! Ciao da Passione Bianconera, bentornato in un nuovo video. Come sempre ti invito ad iscriverti al canale per non perderti alcuna novità e per rimanere aggiornato su tutte le novità della Juventus. Ti ricordo inoltre di attivare la campanella delle notifiche che trovi sempre qui in basso. Veniamo subito alle news di oggi. Miretti e Fagioli stanno cambiando questa Juventus, hanno una voglia degli occhi e si vede e forse per gli anzianotti è una spinta in più. Danilo infatti dichiara che spesso li motiva personalmente e questo è uno stimolo personale in più per poterli stare vicino. I due sono giocatori che stanno alla Juventus da quando erano bambini. Evidentemente se stanno ancora qui un motivo c'è. Essere alla Juventus non basta solamente saper giocare a calcio. Bisogna infatti avere testa soprattutto nei momenti difficili e secondo il nostro punto di vista questi giocatori possono dare veramente tanto nei prossimi anni alla Juventus. Per questo video è tutto, iscrivetevi al canale per altre notizie della Juventus. Ciao e a presto! Ciao! Ciao!